Beh ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video. Premetto che avevo detto dentro il video che non avrei fatto più un pre-video, però niente questa era l'ultima volta per un... vabbè posso anche farlo, però non voglio cercare di fare pre-video solo per chiedere like. Volevo solo dirvi che voglio cercare di portarvi dei video un pochino meno editati, non dico che non li editerò, ma meno editati, con diciamo me che faccio tanto progress, tipo in un episodio faccio un backpack fatto bene, tipo in questo farò tante cose, eccetera eccetera. Mi volevo scusare anche se in questo episodio sono un po' smorto, ma ho dovuto rifare il video tre volte, tipo perché prima di uscire a pomeriggio l'avevo registrato, però l'ho registrato con quello della webcam, con l'audio della webcam e non si è sentito lo ieti. E ho voluto rifarla adesso che sono le tre, è un po' tardino, però vabbè comunque io vi lascio l'intro. Bella. Marci burlone. Marci burlone. Video di ieri, dopo tutti i commenti positivi, dopo aver parlato anche con Eren, devo dire ragazzi che mi è tornata non la voglia di fare i video, ma la voglia di iniziare nuove serie. Di iniziare nuove serie che vorrò portare su questo canale, che spero che continuate a seguire. Allora, la serie che vedete oggi è una serie moddata e i più per spiegaci di voi avranno notato che è appunto la Marci Pack. Perché sto riniziando da zero e perché ho messo il titolo Marci Pack stagione 2? Perché voglio cercare di differenziare il periodo nel quale non ero molto contento di fare video con questo, perché sono tipo stracarico ragazzi, perché sono tornato più forte che prima, bastardi. E allora, non dilughiamoci troppo, vi chiedo subito di lasciare un mi piace perché sennò vi dimenticate. Infatti lo chiederò solo unicamente così, il like, non più come prima che farò tipo i pre-video. Io ve lo dico sempre perché so che vi dimenticate. E uno adesso, sicuramente qualcuno di voi sarà arrivato fino a questo punto e lo avrà ancora messo, quindi mettetelo. Allora, in questo episodio voglio farmi una mini base qua perché alla fine voglio fare qui la casa, visto che è abbastanza piano. Sì dai, può andar bene, può andar bene. Eviterò di tagliare quasi tutto perché preferisco lasciarvi il gameplay puro in questo, diciamo, modpack e non più fare tipo tagli paurosi. Vabbè, è ovvio che è tipo un episodio nel quale devo andare a prendere la red, se non la red taglio quando devo andare lì. Comunque adesso, abbiamo una piccola base qua. Io ho già provveduto a farmi delle cose basi, le cose che ho trovato nelle ceste, ho tipo rotto un dungeon di coloro degli alberi che è una cosa di merda, fa proprio schifo. Quindi facciamoci un po' di ceste. Allora, le ceste, le ceste, ne facciamo tre, riusciamo a farne tre? Sì, riusciamo a farne tre? Sì, perfetto. Quattro, ok. Facciamo così e così. E qua dietro ci mettiamo una fornace direttamente. Però la fornace abbiamo bisogno della bene amata, bene amata terra. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Cosa sto dicendo? Cosa sto narrando? Della nostra bene amata... Vabbè, avete capito. Sto delirando pure io ragazzi, sto impazzendo. E sti cazzi, prendiamo un pochino di questo, dovremmo arrivare almeno a, io direi, almeno a dieci ragazzi. Perché è la cosa migliore. Comunque, penso che nel prossimo episodio, invece di farla a casa direttamente, io proporrei di fare una bella minata. Scrivetevelo nei commenti se vi va bene, perché comunque andare in minata subito è la cosa migliore. Anche se adesso ragazzi, io purtroppo ho lasciato il gioco acceso e quindi è già notte. Non posso farci niente a dire il vero. Quindi prepariamoci subito a queste cose. Allora, per fare una bag, come facciamo? Per fare una bag, o backpack. Backpack, infatti. Tipo uno di questi. Come si fa? Addirittura. Abbiamo bisogno quindi di mucche. Facciamoci un'altra spada. Cos'è sta cosa? Oh, voglio vederla. Ma che figata. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ci sono altri stick. Io la farei direttamente di pietra. Farei direttamente di pietra. Così siamo a post. Ok. Mi sembrava che di là, dritto di là, ci fossero delle mucche. Se non mi sbaglio. O c'è anche un melone, ma che bello. Io lo prendo subito. Io lo prendo subito. Questo proprio ci serve, ragazzi. Perché mi pare che serve per fare un nuovo delle cose abbastanza interesting. Interesting. Ok. Lì ci sono delle mucche. Facciamoci subito sto backpack. E prepariamoci per il prossimo episodio che andremo in miniera. Perché voglio partire alla grande. Spero comunque che questa serie vi possa piacere in questa maniera. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Non ditemi sì, sì, ma ci mi piace. E poi il secondo episodio sti cacchi non se lo guarda nessuno. No, così no. Comunque adesso sarò molto più divertente nei prossimi episodi perché ora è tardi. Però ci tenevo veramente tantissimo a registrarlo questo video. E quindi sì. Però non abbiamo abbastanza leather. Perché ce ne servono nove pezzi. No, otto pezzi. Otto, otto pezzi. Tu, muori. Raw chicken, eccola qua. Oh, mangiamole un po' e avveleniamoci. No, non mi sono avvelenato. Perfetto, perfetto. Però, se non trovo delle mucche o altre, sono abbastanza nei cactus. Sono nei cactus perché solo cinque... Muori te. Solo cinque mucche non bastano per nulla. Oh, qui vedo qualcosa. Cos'è sta cosa? No, 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 girlfriend. Oh, qua vedo quelle di... Di gold apple. Mi pare che siano quelle, effettivamente. No. Me ne date due, me ne date. Oh, sì. Speriamo che questo... Dia qualcosa. Oh, quando danno le mele d'oro mi piace. E ne mangio pure una. Bastardi. Così ricopro anche un po' di vita, magari. Ok, infatti. Allora. Facciamoci questo backpack. Voglio farmi una mini base così, proprio stupidissima. Voglio che questa serie sia abbastanza interattiva con voi. Nel senso che voi mi dite le cose da fare. Mi mandate tipo degli screen su Facebook. Vi lascerò il link in descrizione. E niente, almeno posso rendermi conto di cosa volete che io faccia. Comunque io ho perso la condizione di dove eravamo prima. Dove eravamo? Ah, eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Io metterei delle torce. Le abbiamo delle torce. Ne abbiamo bin due. Ne abbiamo bin due. Ora la mettiamo sopra sto coso qua. Che non si può. E una la mettiamo qua. Perfetto. Perfetto. Quindi, craftiamoci subito questo, per esempio. E se io la voglio bianca? Ma non si può fare senza niente, tipo. No. Ah, questi sono più grossi. Questi qua. Ma cosa cambio? Ah, tanned leather. È bound leather che si fa. Ah, vabbè. Ci vuole troppo. Preferisco farne due piccolini a sto punto. E colorante ne abbiamo. Sì. Da qualche parte lo abbiamo. Questo non dà niente. Che sbatta. Dove lo prendo? Vabbè, qua ci sono delle squid in teoria. In teoria. Eh, sì. Sì. Perché non ci sono delle squid? Cioè, sei serio? Non ci sono delle squid normalissime? C'è no, ma sei serio? C'è no, io dove lo trovo il tuo colorante? Mi serve il colorante. Peraltro siamo in easy. Siamo in easy. Sono abbastanza amareggiato. Perché non ci sono le mie... Ho visto la squid. Ho visto la squid. Ho visto la squid. E tu sei mia. E tu sei mia. E tu sei mia. Bastarda. Bast... Oh là. Oh là. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Abbiamo già dieci livelli. Non so se come sia possibile. Però vabbè. Allora. Il posto in cui eravamo... L'ho perso. Ok, no. Ci sono delle torce. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Spero comunque che vi piaccia questo nuovo tipo stile. Che in alto a sinistra c'è il tutto. Allora. Ok. Leather. 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 Ah ok. Ce lo facevo. Ma io quasi quasi. Io lo tengo così. Io poi faccio così. Ah ma lo cambio. Quindi ok. Ci sto. No. Preferisco fare così. In questo qua metteremo tutte le cose della miniera. Che sì. Ci sta di brutto. Quindi. Sistemiamo già le cose per bene. Per bene nel senso tac. Allora. Ok. Un po' di cibo lo portiamo. Va bene. Allora. Dovamo craftarci altre cose. Quindi. Prepariamoci per bene a questa miniera. Quindi tac. Andiamo giù dove eravamo andati prima. Che era appunto qui. Ah prendiamo. Ah no. L'avevo vista sopra. L'avevo vista sopra tipo fatta. Fatta. Eh stile così. Il ferro intendo. Raga. Quindi. Facciamoci una pala. Facciamoci una pala. Facciamoci. Facciamoci una pala. Tac. 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 Ok. Ok. E ok. Ok. Però non mi ricordo. Quello è ferro? Sì. Allora. Così. Ci craftiamo tutte le cose possibili. Immaginabili. Che ci possono servire. Per andare in miniera nel prossimo episodio. E ragazzi. Il prossimo episodio. Come vi ho ripetuto. No. Non è ferro. Che palle. No. Non è ferro. Come facciamo adesso? Mmm. Che facciamo? Che facciamo? Se non è ferro. Non posso manco più correre. Sti gran cacchi. Allora. O troviamo una cavernucciola. Però ci stiamo dilungando troppo col video. Vi farò avere tutto pronto nell'inventario. Spero. Perché. Non me lo garantisco mai da solo quando dico queste cose. Lasciate un bel mi piace. Ed un commento. Ragazzi. Che è la cosa più importante da parte mia. Fatemi sapere un pochino. Che serie vorreste vedere. Fate caso. Che voglio iniziare una serie con Charlie. Quindi magari. Scrivete qualcosa nei commenti. Su cosa potremmo fare. Ovviamente. Una cosa. Sempre in Minecraft. È sempre una cosa. Molto. Molto. Scialle e carina. Quindi. La marcia è tutto. E che lo swag sia con voi. Bella.